Novità per quanto riguarda la viabilità del centro. Ci sarà un'isola pedonale tra Corso Garibaldi e Piazza Chiarino. L'Aquila così si prepara all'estate, sono previsti anche nuovi parcheggi. L'esigenza dei gestori infatti ad oggi è quella di estendere i servizi anche all'esterno. Per venire incontro alle esigenze degli esercenti così l'assessore Carla Mannetti ha deciso che in Corso Garibaldi entrerà in vigore l'isola pedonale, la prima post-sisma, dalle 20 alle 2 del mattino fino a Piazza Chiarino. Il provvedimento dovrebbe passare al vaglio della giunta presto. I commercianti infatti hanno chiesto in maniera pressante al comune di poter mettere i tavoli fuori dai locali visto il caldo e dunque il passaggio delle auto non sarebbe sicuramente buona cosa con l'istituzione dell'isola pedonale. Così si salvaguarderanno le attività commerciali di via Garibaldi ma anche la tranquillità di chi frequenta i locali. Verranno ridisegnate anche le strisce bianche in Piazza Chiarino per parcheggi liberi anche se si sta valutando pure qui la possibilità del disco orario in determinate ore della giornata. La questione dei parcheggi ha provocato molti malumori così che anche in Corso Federico II ci sono ora le strisce con il disco orario. Pare più ordinata la situazione e sembrano non esserci state più le multe numerose dei giorni scorsi. Staremo a vedere.